buongiorno a tutti quanti dio ci benedica oggi volevo fare questo filmato del mio giardino di quest'anno 26 maggio 2022 quello che il signore in questo momento ci ha dato in quest'anno che la gloria del signore sia sempre in eterno che dio benedica tutta l'umanità di non abbandonarsi mai perché dio da sempre una possibilità a chi ha fede a dio attraverso gesù e questo è un grandioso miracolo che dio fa a chi veramente sta seguendo la sua parola per la gloria sua che la gloria del suo figlio gesù cristo quello che vi chiedo è di non abbandonarvi mai quando avete qualcosa inginocchiatevi e pregate gesù mettendo tutto ai piedi di gesù e gesù provvederà a portare tutto al nostro padre celeste dio d'amore e con questo voglio ringraziare il signore per quel che lui ha fatto in questi lunghi anni nella nostra vita e nella nostra casa venite dietro alla preghiera padre santo dio d'amore nel nome del tuo figliolo gesù cristo oggi vogliamo venire a te attraverso il tuo figliolo gesù cristo ai suoi piedi dando ti onore gloria e maestà per tutto quello che tu hai fatto e che farai in questi giorni attraverso tutto quello che tu vorrai grazie padre grazie per questo nuovo giorno grazie per l'amore grazie per la salute e grazie per la prosperità che tu darai sia a me alla mia casa alla mia famiglia e tutto il mondo intero signore metto tutto nelle mani del tuo figliolo gesù cristo con gioia e con amore sapendo sicuro che gesù oggi trasporterà immediatamente ogni cosa a te grazie padre nel nome di cristo gesù che tu l'hai benedetto in eterno amen bene cari nella grazia adesso vi farò vedere il mio giardino che dio ci benedica amen adesso ve lo faccio vedere globalmente sono dei giardini è una valle meravigliosa in questo momento vedete che ci sono delle fave piselli cipolle acce alberi di giliegio che stanno portando molto frutto alberi di pruno pere mele questa è la famosa barracca che vi ho presentato altre volte ci sono altre barracche c'è il gioco dei bambini ecco ci sono anche gli altri giardini ve li faccio vedere altre barracche ogni lotto c'è la sua barracche queste sono piselli che stanno fiorendo vedete che sono belle le fave vi invito ad assaporarli anche che siamo a distanza di chilometri le invito ad assaporarli sono bellissime io ho tanta gioia nel cuore vedendoli soltanto vedendole mi riempio il cuore vedete quando ce ne hanno ecco questo è un albero di pruno queste sono zarche che già stanno facendo il seme zarche lattuche queste sono le famose ciliegie regina si stanno maturando c'è qualcuno che già sta avendo del rosso vedete fra qualche settimana due incomincerò a mangiare ciliegie ce ne sono moltissime mattuca rossa quelle sono tutte fave questo è fagiolino vedete quando ce n'è tutto fagiolino questo è albero di pruno cipolle acce questo è un albero di fico vedete ho anche le fico quelle nere e quelle bianche farò vedere fra poco fave fave questo è un albero di ciliegio vedete ce ne sono tutte le qualità queste quelle un poco piccolino ma sta portando anche frutto gloria a dio questi sono cipolli sempre qui ci sono i ceci ceci tutto il filagno è di ceci questo albero grande è di noce guardate com'è grande è circa 25 metri alto o 30 metri massimo ci sono noce per tutti l'attuca rossa albero di pruno dove vedete queste bastoncine è tutto seminato piselli fave che dovrebbero uscire fra qualche settimana in produzione perché ha piovuto adesso quest'anno abbiamo avuto una grande siccità adesso il signore ci ha dato questa possibilità che ha piovuto e in questa settimana l'altra affioriranno ogni bastone che ci ha messo è seminato vedete tutti questi bastoncine che vedete sono tutti buche seminate che uscirà qualcosa di io volendo anche qui abbiamo fagiolino che è uscito questa settimana qui c'è un altro albero di fico questo è fico nera vedete è piccolino ma nei prossimi anni porteranno frutto io volendo qui ho seminato tutto piselli dove vedete tutte queste bastoncine a filagno sono piselli che dovrebbero uscire in questa settimana l'altro che è piovuto quello è un albero di olive c'ho anche l'olivo è piccolino ma ecco ho sistemato il progettore Queste sono fragole sono già affacciate le fragole, presto mangerò anche le fragole, questi sono ceci, albero di pruno e albero di pere, adesso ve lo mostrerò più vicino, ceci, piselli Queste sono patate, ci sono anche le patate, piselli e patate, albero di pruno, ecco queste sono pere, albero di pere vedete già c'è il frutto in maturazione ecco perfetto questi sono altri alberi, altri giardini, vi dimostro ecco albero di pruno, cipolle, carote, queste erano carote, fiori, c'ho anche i fiori vedete quante cipolle patate la zona verde in questo numero ci sono il pomodoro questo è un tunnel, ce lo mostrerò da dentro qui sono tutti qui sono tutti stappo uno, vi faccio vedere in maturazione ecco vedete come sono grandi vedete vedete ci sono diversi tipi vedete questa è quella rossa quella è quella bianca vedete vedete il palaggello il palaggello zarche stanno affacciando le trupe queste sono le zarche stanno affacciando vedete vedete questo è un altro albero di figo bianco c'erano diversi figo in tutti i colori alberello di pruno questo è un altro albero di ciliegie vedete vedete c'è anche frutto quest'anno hanno portato tutto il frutto gli alberi che ho seminato diversi anni fa guardate come è alto già è in produzione vi faccio vedere più da vicino ecco 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 perfetto questo è un altro albero ecco c'è anche frutto c'è anche frutto questo è pruno dolce bianco ecco 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 fave, uva c'è tutto, tutto alla gloria di Dio Questi sono tutti, se vi dovete fare l'insalata potete, vedete come sono grossi, tra poco Purtroppo andranno perduti, ce ne è una marea, una marea proprio ce ne è, guardate Tutte queste sono tutte uguali, tutta questa zona, e beh farò il seme che ci posso fare Ma se siete nei rintorni avvicinate, ve li posso offrire gratuitamente Ecco, ho anche la cucuzza Ecco, questa è la cucuzza, quella lunga Per fare la pasta, con cucuzza lunga per fare la pasta Lo spezzatino Ecco, questo è tutto seminato, dove ci sono tutti questi bastoncini, deve uscire fave, piselli, tutto Ciceri, tutto seminato Settimana prossima escono fuori perché ha piovuto Ceci Carote Queste sono cucuzze Cucuzze, cucuzze Fragole 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 Tomato Pomodori 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 cipolle fragole fave fave cipolle qui dove ci sediamo all'ombra quando fa caldo tavolino cipolle guardate quante sono belle stanno incrossando cucchi lunghe pavete tragole tragole Cucuzza lunga, ho messo dentro una grasta grande, cucuzza lunga, ecco. Ho anche finocchi selvatici, fragole, queste quasi mature. Tragole, fave, fave, qui ho i finocchi selvatici. Fave, fave, fave. Fave, fave, fave. Fave, fave. Fave, fave. Fave, fave. 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 Questo grande albero è un albero di pruno, quello settembrino, quelli lunghi, vedete, già si vedono che sono lunghi, vedete come sono lunghi. Guardate che grande, e ora si deve mangiare tutti questi frutti, potete venire, ve li offro gratuitamente. Dio mi dà e io li dono. Gloria a Dio, gloria a Gesù. La prenombra, quando il sole è forte. Grazie. 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 Questo è un altro albero di pruno. Grazie a tutti. Cicoria per mantenere gli intestini buoni e puliti. Queste sono cucuzze lunghe. Nel tunnel ci sono i maloni. Tra poco li trappianterò il petrosino. Cicoria. Ciccioli. 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 Peperoncino. Fragole. Fraggio. Fraggio. Lavorino lungo, quello di sfalto, cecorria, albero di ciriegie grande, guardate quanto è grande, albero di pesche. Una peccata, un po' di griglia, farata, un po' di griglia, un po' di griglia, un po' di griglia, Ciliegio, panamaturando, patate, il gioco dei bambini, queste sono le pesche, guardate che è caricato, quest'anno ho promesso di farci il lavaggio ogni settimana, e sembra che stanno maturando perfettamente bene, sperando che nessuno li disturbi gli insetti o altro. Grazie a tutti. Questo è un albero di mela, quest'altro è un albero di mela pure, ci sono già i frutti, pruno, albero di pruno, raccogliendo l'acqua dal tetto, questo è un albero di mela, è un paradiso terrestre, albero di pruno, peselli, tomate, pomodori, patate, pomodori, patate, cucuzia, zucchine, pomodori, patate, cipolle, ciliegie, ciliegie, guardate che grande è quest'albero di ciliegie, quante ce ne sono, che ce le deve mangiare, gloria a Dio, alleluia, pesche, pupuzza, zucchine, fragole, ciliegie, guardate quando ce ne ha pesche in quest'albero, è molto caricata, ci riesce, 10, ciliegie, 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 Pien. Alleluia, gloria al Signore. Qui c'è un altro albero grandissimo di ciliegie, Ce ne sono due, uno dolce e c'è l'amarema, si vede questo piccolino di qua è amarema ma è molto caricato, chi soffre di diabete li può mangiare benissimo, albero di ciliega di amarema, questa è amarema, guardate che è caricato, amarema, questo piccolino, invece questo grande albero e ciliega, guardate che alto, gloria al Signore, alleluia, gloria al Signore, tutto caricato, la tempesta, alleluia, gloria al Signore, alleluia. Ce n'è un altro albero e ciliega in altra parte del nostro giardino, ve lo mostro di fondano, ecco, pomodoro lampicante, pomodoro lampicante. Pera, albero di pera, puma, guardate quanti alberi che ci sono, tutti fruttiferi, quest'anno il Signore, il Signore ci sta benedigendo, mele. Zucchini. Grazie. 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 Sì. Sì. Fico. Vedete, fico nero. Già c'è il frutto. Fico. 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 Già. Zucchini, tomate, zucchini, tomate, zucchini, tomate. Zucchini, patate. Noce. Finocchi, cipolle, acce, prezzemolo, zarchi. Zucchini, patate. Zucchini, patate. Zucchini, patate. Anche che la siccità, guardate queste pesche, sono già belle grosse. Bellissime. Guardate che sono grosse. Signore ci ha benedetti quest'anno. Sarà stata la siccità magari, perché gli alberi ci soffrono quando c'è molta acqua si ammalano. Comunque non possiamo dire niente, perché brutta la siccità è brutta e molta acqua. ma il Signore sicuramente ci benederà ancora più migliore nei prossimi anni. Questa è ciliega. 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 Sì, sì, sì. Tomate, fagiolino, lattuche, tomate. Sì, sì, sì. Ciliegie. 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 Tutti ciliegie. Ciliegie. Gloria al Signore. Bruno Settembrino. Ciliegie. 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 Questo è Bruno Settembrino. Guardate che grosso, che grande, che caricato. meravigliosa gloria a Dio gloria a Gesù pomodori patate già sono in fiori i pomodori questi pomodori sono quelli ingannati non è alto Bruno Settembrino Settembrino melenzane 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 peperoncino peperoni tomate patate peperoni zucchine zucchine mele mele patate zucchine zucchine pomodori zucchine calvole sparigiello broccoli Ecco lì, zucchine, aglio, cipolle, fragole, cipolle, zucchine, pomodori, albero di pesca, grandissimo, caricato. Guardate quanto è grande. Questo è un albero di ciliegie, grandissimo, meraviglioso. Mi faccio delle mangiate che mi diverso. Questo è albero di pruno, quello giallo, dolce. Guardate che alto. Anche questo è albero di pruna dolce, giallo. Guardate. 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 qui c'è la zucchina la sto proteggendo del caldo che sta facendo in questi giorni vedete tomate tomate zucchina quella lunga la proteggo dal troppo caldo che sta facendo sta spargendo la tomba patate chipotle cipolle zucchine patate patate carote e patate carote pomodori tomate tepe teperancino pomodori l'uno settembrino bello caricato gloria a dio dopo domani o domenica gli devo fare il lavaggio dappertutto ogni settimana faccio il lavaggio in tutto il giardino ecco questo è un albero anche di pruno ecco pruno 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 questo è figo quella nera albero albero di pruno che 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 albero di pruno albero di pruno guardate che è caricato guardate che grande guardate c'è l'edget mele, mele, gioco dei bambini, queste sono pere, meravigliose pere, sono tutti in maturazione, guardate che grande e quante ce ne sono, posso saziarmi solo con la frutta. Gloria a Dio, gloria a Gesù, pruno, albero di pruno, questo è un albero di pesche, guardate che è caricato, meraviglioso. L'uva, cilieggio, bravole, questa me la mangio, bellissima, gloria a Dio, cilieggio, se ne ho un'altra fregola me la mangio, questa me la mangio romane, questi sono tutti semi di broccoli, cavoli, sprecello, stanno facendo il seme per l'anno prossimo. il pomolore, il pomolore, li proteggo dal caldo, ciocchina, cucuccia lunga, ciocchina, 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 ci riserebbe ancora, ma io non ho più tempo, di mostrarvelo tutto, ma tutto va alla gloria di Dio. Gloria al Signore, il Signore ci ha benedetti, adesso voglio pregare, per ringraziare il Signore, per quello che ha fatto, per noi. Padre Santo Dio d'amore, nel nome di Cristo Gesù, ti voglio ringraziare, ti voglio lodare, ti voglio benedire, per tutto quello che tu hai fatto, ancora oggi, per tutti noi, benedici tutta l'umanità Padre, fai che ogni ammalato possa guarire, fai che ogni ammalato possa trovare la grazia, la forza, di essere assistito da te Padre. Grazie Padre ancora, che puoi svegliare tutti quelli che sono in goma, e dargli la possibilità, di guarire, e di essere ancora pieni di vitalità. Grazie Padre, per questo che tu fai. Ti ringraziamo Padre, nel nome di Cristo Gesù, il Santo, che tu hai benedetto in eterno. Amen. gloria Signore. Ora giro la camera. Cari nella grazia di Dio e di Gesù, oggi vi ho mostrato ciò che il Signore ha dato ai Suoi figlioli. chi lo prega, Dio gli dà possibilità di essere santificato, aiutato, sostenuto, nella grazia Sua e nella grazia del Suo Figliolo Gesù Cristo. questa è una grande gioia per me oggi, dirvi inginocchiatevi, inginocchiatevi alla presenza del Suo Figliolo Gesù, perché potete usufruire di tutto quello che il Signore vi darà. il Signore, adesso mi sono seduto e voglio dare alcune informazioni globale, informazioni che potrebbero aiutarvi. io ho un sito in internet che è nominato ed è famoso, si chiama www.gesulalucedelmondo.it digitando questo sito www.gesulalucedelmondo.it troverete tutto quel materiale che avrete bisogno per evolversi in Cristo Gesù, per guarire, per essere sanato, non perché questo sito è mio, ma è guidato dallo Spirito di Dio e di Gesù. io sono uno strumento nelle mani di Dio e di Gesù, tanto che mi ha nominato Servo dell'Eterno. Questo nome meraviglioso ne sono fiero, di essere un Servo dell'Eterno. In più altre informazioni, entrando nel mio sito troverete nel primo link qui, la foto di un chief che si aprono moltissime foto della chiropratica Darmstadt Rheinheim Rheinheim Darmstadt fra cui la dirigo io personalmente. questo link è e si tratta di chiropratica digital pressione rilassamento muscolare e mentale chi soffre anche di atrosi cervicale ernia disco lombare e di qualsiasi genere che è in difficoltà nel corpo può telefonarmi o scrivermi in WhatsApp prendere un appuntamento anche che in distanza può venire e provvederò con l'aiuto del Signore di fargli alcune terapie che ha di bisogno. Vi dico che già dal primo inizio della terapia avviene un miglioramento globale si avverte già un inizio di beneficio e proseguendo troverete la salute. io ho messo alcuni video nella pagina per poter voi capire ciò che sto cercando di inserire nei vostri cervelli nelle vostre menti e nel vostro essere. In più un'altra informazione tutto questo che vi sto dicendo è tutto gratuito si richiede soltanto alla fine di ogni seduta di ogni beneficio un'offerta.